Ciao a tutti da Gerardo Paterna per Realtor TV, anche oggi proseguiamo il nostro viaggio alla ricerca dei protagonisti del mercato immobiliare italiano, oggi ospitiamo Melanie Libraro, General Manager di Subito, ciao Melanie e grazie per essere qui, come al solito dedichiamo anche a quest'ospite tre domande canoniche, facili, quindi nessuna difficoltà, subito è un portale generalista che lavora anche con gli agenti immobiliari, quindi quanto incide diciamo così l'immobiliare nel business di Subito? So che è una domanda che non volevi subire ma ti costringo ad una risposta. Va bene, allora qualche numero te lo posso dare, subito a circa 150 mila nuovi annunci al giorno che va ovviamente tutto, dai detrattori alle case e alle auto, qualsiasi cosa, circa il 15% di questi sono immobili, sia in affitto che in vendita e sia da privati che da professionisti. Ok, diciamo così il segmento immobiliare sta continuando a crescere rispetto agli altri? È molto speculare col mercato, quindi ora che stiamo vedendo una crescita del mercato immobiliare, pian pianino si sta vedendo qualcosa, anche per noi cresce il numero di annunci di case in vendita o in affitto, quindi è molto, riflette molto il mercato. Bene, una riflessione sull'evoluzione del mercato immobiliare, come vedi quindi questo settore sia dal punto di vista dell'operatore, quindi dell'inserzionista che del cliente, quindi del cliente acquirente, acquirente o venditore. Partiamo prima dall'acquirente, dal consumatore, soprattutto per chi fruisce contenuti sul nostro portale, è sicuramente qualcuno che affacciandosi ad un portale, che possa essere verticale o generalista, sa di poter trovare ampia e quello che noi abbiamo ovviamente con quasi 20 mila nuovi annunci, quindi solo di immobiliare tutti i giorni, è veramente una scelta molto ampia, è un numero importante, quindi sanno che trovano sempre contenuto fresco e hanno la possibilità veramente di andare a cercare quello che veramente desiderano. rendere contenti loro è molto facile, sinceramente tenerli affezionati è molto facile se continui a portargli il contenuto di cui hanno bisogno. Sul mondo invece dell'operatore, quindi del professionista, è sicuramente più sfidante perché ha delle esigenze diverse, noi come generalista però riconosciamo il peso del mercato immobiliare per noi e quindi stiamo lavorando moltissimo per portare sempre più valore aggiunto, che possa essere sulla qualità della lead, del contatto, ha anche la dignità degli spazi che diamo sul nostro portale al professionista, in modo che ci sia un vero shopping shop, magari mettere in rilevanza tutti i suoi annunci all'interno di subito e non solo uno e incominciare a lavorare sui dati per capire come portargli delle persone qualificate. Bene, allora 2016 ormai è alle porte, in quali modi pensate di crescere e perché un agente immobiliare dovrebbe guardare con favore subito nell'ambito della propria politica di marketing? Allora, noi continuiamo di crescere, un grande focus per noi per il 2016 sarà il mobile, perché già il 70% del traffico di subito è fatto da mobile, ora è vero che forse per il mercato immobiliare le persone preferiscono uno schermo più grande, ma è anche vero che oggi siamo tutti in mobilità, siamo tutti raggiungibili e noi stiamo lavorando tanto per rendere l'esperienza mobile sempre più semplice, qualsiasi sia la cosa che stai cercando, un paio di scarpe ad una casa. Quindi quello che noi possiamo portare è sicuramente una conoscenza molto particolare di chi usa quale contenuto, a che ora, quando e su quale piattaforma, essendo multipiattaforma e possiamo portare questo valore all'immobiliare che lavora con noi e quindi cercare di fargli capire anche meglio come il suo contenuto viene fruito, in che momento della giornata e da chi e quindi cercare di dargli suggerimenti sempre più puntuali su come migliorare anche la visibilità e la qualità del suo contenuto. In più cerchiamo di innovare sempre, quindi siamo sicuramente qualcuno che forse più dei nostri compagni verticali, che sono già una realtà del mercato, dobbiamo provare ancora in maniera più forte a diventare migliori. Quindi quello che avranno da noi è sempre il mettercela tutta sicuramente. Bene, un ultimo aspetto. Quali consigli daresti ad un agente immobiliare per migliorare la propria visibilità in termini di annunci subito? Ma allora ci sono due aspetti. Uno è sicuramente la qualità dell'annuncio e quindi delle belle foto fatte bene con una buona luce, un buon annuncio descritto bene, ma anche in maniera accattivante, non solo con tutte le persone. Raccontato. Raccontato, perché una caratteristica del generalista è che la mente di chi è sul generalista spazia. Le persone passano su di noi tantissimo tempo e passano dagli scooter alle macchine decappottabili alle case e quindi vogliono un po' anche la storia e il sogno. Quindi dategli un contenuto che sia veramente accattivante. C'è stato un esempio ieri, non so se l'hai seguito, è finito sui giornali, è stata una cosa stranissima. Un ragazzo ha messo in moto la moto esatta replica di Marquez, l'ha messa in vendita data la delusione di quello che è successo in MotoGP. Ha dovuto togliere subito l'annuncio perché l'ha venduta immediatamente ed è finita su tutti i giornali, tutti i social. L'annuncio era talmente divertente, talmente accattivante che senza nessuna visibilità da parte nostra ha fatto il giro del web. Quindi raccontate un po' la storia. Poi ovviamente noi mettiamo a vostra disposizione degli strumenti per dare più visibilità. Io per esempio quando vendo qualcosa metto in vetrina i miei annunci perché vedo che quando li metto in vetrina ho tre volte tanto le persone che mi vedono e vendo molto più velocemente e al prezzo che voglio io peraltro senza non dover cambiare l'annuncio o variare il prezzo del bene. Quindi lavorate sulla qualità perché voi siete veramente dei professionisti che potete fare cose che i privati magari fanno più fatica a fare. Bene, perfetto. Melanie, grazie. Grazie mille per essere disponibile. Un saluto quindi da Gerardo Paterna per Redattor TV. Alla prossima con un altro ospite. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.